Musica Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui mi sono velox, oggi sono qui per portarvi un nuovo episodio della serie in cui andiamo a sbloccare la mimetica segreta di Call of Duty 4 Remastered Oggi, episodio molto importante perché ci andiamo a portare a casa il primo sniper oro di tutta la serie, ecco quindi l'M43 nonché sniper preferito del sottoscritto Per portarci a casa la mimetica oro ci mancano pochissime kill ragazzi, c'è 17 voglio dire, la faremo subito quindi andiamo in tct e vi racconto un po' di cose riguardo quest'arma che vi stupiranno abbastanza a tra poco Ok ragazzi ci siamo, sono in aperta su crossfire che non so sicuramente da quanto è iniziata però sti cazzi, perché l'anno dobbiamo fare solo 17 kill, allora vabbè comunque, cioè ovviamente siamo tipo a 20, non penso sia fattibile però Vediamo un po', qua è lentissima carichere ogni volta, proprio lentissimo, vediamo un po', ok senza andora, tra l'altro non so lo sapete ma è così lento solo su console Perché i code su pc almeno, per quanto mi riguarda, non c'è nemmeno il caricamento della mappa, cioè tipo bio 2 parte direttamente ed è una cosa fantastica perché è veramente comodissima Comunque facciamoci queste 17 kill ormai 16, dicevo è stata veramente una passeggiata a fare la mimetica oro per quest'arma, cioè mi è proprio stupito perché Sapete che io sto avendo un po' di problemi a fare queste mimetiche su code 4, cioè le sto proprio trovando difficili rispetto a Beh belli che si spawn comunque, cioè veramente da oscar, le sto trovando veramente complicate da fare queste mimetiche E non so perché, principalmente forse per le mimetiche che chiedono headshot che trovo veramente difficili da fare, mi portano via veramente tanto tempo E quindi chiaramente dalla mia mi aspettavo di, oddio che figura di merda, mi aspettavo di perdere settimane per fare questo sniper Perché cioè se ci metto una vita a fare headshot con le armi normali, figuriamoci con i cecchini con i quali ho sempre avuto un po' di difficoltà Invece a mia grande sorpresa, cioè raga ma la gente non sta correndo in giro però perché non vedo nessuno, ok uno là Dicevo invece a mia grande sorpresa è stata una cazzata ragazzi, fare gli headshot con quest'arma è nettamente più facile Oddio no, non entra il colpo, è stato nettamente più facile che farli con le armi normali Tra l'altro una cosa molto significativa è stata che quando ho preso in mano lo sniper per iniziare a fare appunto la mimetica Cioè io solitamente quando ho deciso di fare una mimetica per un video, prendo l'arma, vedo che lì un punto è e poi inizio a fare appunto le sfide Ecco, quando ho preso in mano quest'arma, a differenza delle altre armi che ho già fatto, ho trovato già tantissimi headshot fatti Cosa stranissima perché nonostante sia un'arma che non uso spesso perché io non gioco spesso con lo sniper Bello, i colpi dove pur com'utano sono Nonostante io non sia uno cosa spessissimo lo sniper E nonostante comunque dovrebbe essere più facile fare headshot con le armi normali Ho preso questo cecchino e avevo già tipo 90 headshot fatti Cosa che invece non è successa per altre armi come le M16 Che uso molto più spesso, che in te dovrebbero essere più facili Che ne avevano tipo 15, una cosa proprio assurda Ma guarda quanto camper hanno in questa cazzo di partita Mori merda Una, adesso c'è l'altra da uccidere, dove cazzo è? Due C'è anche l'altro lì C'è quanto camper hanno, no vabbè lo devo andare a prendere ragazzo qua, cioè devo Dicevo invece prendo quest'arma in mano Era già Oh mio Dio, guarda lì Erano già stravanti proprio tanto E quindi ci ho messo veramente pochissimo a fare, cioè È già significativa come cosa, capito? Se ho già tanti headshot in un'arma che solitamente non uso Non sto tirando le streche comunque raga perché devo fare le kill e non peraltro Cioè se ho già tanti headshot fatti vuol dire che effettivamente è facile farli Li faccio anche normalmente E infatti è così È veramente una puttanata farli Sembra quasi che quando tu vada a mirare già al busto Ci sia tipo la testa enorme degli avversari E ti dia sempre headshot Non so perché raga mi dà questa impressione È come se avessero tutti la testa enorme Con quest'arma, con le armi normali e un incubo vi giuro Oh mio Dio Eligottero intanto C'è un nemico qua Che cazzo è? Qua sul balcone, sull'altro balcone Aspetta che voglio Oh mio Dio È qua, è qua, è qua Se non sbaglio O è sotto, è qua Quindi boh, mi avevo stupito Infatti Benissimo voglio dire Cioè i cecchini erano la mia preoccupazione più grande Ero certo che ci avrei messo Minchia settimane solo per questi Invece Merda, ci ho messo un'ora praticamente a A finirlo questo qua Ero già a buon punto eh Però cazzo ci ho fatto cinquante Cioè tutte le altre sfide in un'ora voglio dire L'arma più facile finora Più anche di ripeto dei fucili d'assalto Che in teoria dovrebbe essere una cazzata Perché si sa Quando fai queste sfide Solitamente i problemi sorgono con le armi strane Che non usi spesso Cioè Oh mio dio Stiamo facendo una strage tra l'altro L'altro due chi raga Intanto l'abbiamo sbloccata la mimetica Come avete visto Oddio Oddio Tra l'altro ho scoperto di trovarmi meglio senza ACOG Che con l'ACOG Però ora lo sto usando per forza Perché Avevo potuto fare la sfida Il problema di usarlo senza ACOG È che Fatta di smith marker Non si è ancora capito bene il motivo Però È così Oddio È un problema con l'ACOG Prendere la gente da lontano Perché Chiaramente è un po' più complicato Ma c'è l'ultimo raga No sto parlando del quick scoop Non ci riesco Mamma me lo stavo tornando raga Una kill mi monco Lui La voglio fare carina dai Non mirata Guarda come cazzo Vabbè La facciamo mirata Sti cazzi proprio Per trovare l'ultimo E minchia Quando devo fare le kill La gente si parisce Là Qua dentro Let's go Ragazzi Ci pieghiamo tra poco Andiamo a gustarci Questa mimetica Ora la vediamo direttamente in partita Salto direttamente la fase in cui Ve la faccio vedere Tanto cioè non serve Ma la faccio vedere direttamente in partita A tra poco Ok ragazzi Ci siamo Ecco qua Il nostro mitico Cecchino oro Veramente Veramente Molto molto carino Con questa mimetica Ci sta veramente bene Forse è una delle mitiche Che ci stanno meglio Su quest'arma Ragazzi Io spero di aver stato come sempre Questo video Iniziate a scrivermi Quale volete Come prossima arma Ecco che arma Vorreste vedere Oro Nel prossimo episodio Intanto andiamo avanti Ragazzi Stiamo andando avanti Con la serie Speriamo di finire La prima possibile Perché voglio assolutamente Questa cazzo di mimetica Intanto First kill E niente Ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao